Question Time Oggi parliamo di Ortoniato Donzia Correggere le anomalie di costruzione e sviluppo dei denti può avere molti benefici è necessario però affidarsi ai consigli di un esperto professionista Ma cosa si intende per Ortoniato Donzia e quali vantaggi porta questo tipo di trattamento? Question Time Si definisce Ortoniato Donzia quella particolare branca dell'odontoiatria che corregge le anomalie di costruzione e di sviluppo delle ossa macellari, dei denti e delle articolazioni temporomandibolari In concreto elimina e previene a qualsiasi età i disallineamenti dei denti e le alterazioni degli organi della masticazione e del profilo facciale Un trattamento ortodontico richiede inoltre un'attenta valutazione posturale al fine di risolvere il caso nel più breve tempo possibile e ritrovare l'equilibrio del corpo I vantaggi dell'ortodonzia non sono solamente di tipo funzionale per permettere una corretta masticazione ma apportano inoltre importanti risultati dal punto di vista estetico soprattutto sul sorriso Avere un sorriso armonico con buone proporzioni tra viso e corpo è un valore aggiunto nella relazione con se stessi e con gli altri L'ortodonzia applica le stesse metodiche sia sul bambino che sull'adulto Esistono due tipi di ortodonzia quella del bambino e quella dell'adulto Nel bambino è di tipo intercettivo cioè preventivo Se intrapresa nelle prime fasi dello sviluppo permette di ottenere un morso corretto denti allineati e un profilo armonico ed equilibrato in tempi brevi Nell'adulto corregge i difetti del sorriso causati dai disalineamenti dentali e dalle eventuali patologie funzionali dei muscoli e delle articolazioni temporomandibolari oggi sempre più frequenti a qualsiasi età La novità assoluta in materia di ortodonzia è l'apparecchio invisibile Dotato di caratteristiche innovative, totalmente trasparente, rimovibile per poter masticare meglio e permettere un'ottima igiene orale Ha un impatto estetico minimale, in bocca quasi non si vede Permette inoltre una vita di relazione facile e disinvolta Indicato soprattutto negli adulti Può essere utilizzato in casi selezionati anche nei ragazzi Grazie per essere stati con noi Nel prossimo appuntamento nuove risposte alle vostre curiosità E se volete rivedere, commentare o semplicemente lasciare la vostra domanda visitate il nostro portale web medicinomoderna.tv Grazie per aver guardato il nostro corso